benvenuti e bentornati a tutti carissimi questa è credo la terza puntata del ciclo di catechesi dedicato ai nuovissimi siamo entrati la volta scorsa nel vivo del primo di questi punti che ci attendono per essere compresi e meditati che appunto la morte dopo un'altra introduzione abbiamo visto i principali passaggi biblici che narrano il problema morte da dove viene e abbiamo già imparato con le prime approcci a queste letture che con la morte dio non c'entra niente dio non ha creato la morte non gode per la rovina dei viventi abbiamo sentito affermare chiaramente dal libro della sapienza che di fatto è un commento una glossa a quanto la rivelazione narra essere avvenuto con il peccato originale la minaccia della morte combinata dal dio all'uomo qualora avesse peccato e la realtà della morte dopo il peccato tu sei polvere e in polvere ritornerai tema che poi san paolo nelle lettere romani come abbiamo visto l'oltre scorso abbiamo chiuso con queste considerazioni nel capitolo 5 nel capitolo 6 afferma esplicitamente in maniera abbastanza inequivocabile incontrovertibile il nesso la relazione tra il peccato e la morte abbiamo già accennato a tutte quante le implicazioni presenti in questa grande verità perché se il peccato è la causa della morte corporale che è il sommo male in questo mondo cioè tra i mali che si chiamano in teologia fisici alla morte è il peggiore di tutti tutti sono terrorizzati dalla morte tutti cercano di esorcizzare il problema morte l'abbiamo visto la volta scorsa molti cercano di esorcizzarlo ma la morte è una realtà e se la morte viene dal peccato il peccato è qualcosa di molto grande ma non solo la relazione peccato morte non si chiude si è finita ormai fatto peccato originale data la morte quindi la morte è una realtà ormai diventata ineluttabile però a questo punto se faccio il cattolo peccato la morte resta allo stesso quindi la posso fare tranquillamente è no è proprio no perché il peccato è causa della morte fisica anzitutto e questo è il peccato originale in particolare ma ogni peccato dell'uomo quindi ogni peccato attuale è causa della morte potremmo definirla contologica forse una parola un po' non proprio del tutto adatta perché ma la morte dell'anima sì è corretto perché l'anima muore quando perde la grazia di Dio e la grazia di Dio si perde con il peccato appunto che si chiama mortale perché il peccato si chiama mortale perché produce un'ulteriore morte una morte attenzione più grave della morte fisica perché la morte prodotta dal peccato attuale che noi commettiamo in questa vita insegna la chiesa ha come effetto questo che qualora la morte corporale sorprenda l'anima in stato di morte alla grazia le parole di Gesù nel nell'apocalisse no conosco le tue opere ti si crede vivo e invece sei morto se ti trova in questo stato la morte e poi c'è un problema grosso perché c'è una terza categoria di morte che è la morte eterna quindi quando noi diciamo morte dobbiamo subito specificare ma di che morte stiamo parlando di morte corporale questa San Francesco addirittura la chiamava sorella siamo sicuri che questa morte corporale sia il male assoluto poi c'è la morte innescata dal peccato cosiddetto mortale che è la morte dell'anima è l'anima morta alla grazia che ha perso la grazia santificante ricevuta nel battesimo e poi c'è la morte eterna questo è il sommo male da temere la morte eterna non la morte corporale ma la morte eterna è un male conseguenza quindi non è che dici se io temo la morte eterna essa starà lontano da me perché la evito no se temi la morte eterna questa non starà lontana da te la morte eterna starà lontana se tu temi di offendere Dio se tu temi il peccato lo temi nel senso che è una starà larga come della veste bubonica insomma in poche parole per noi figli di Dio il problema non è la morte la morte non è un problema il problema è il peccato quello è il sommo male faccio qualche pausa perché quando faccio queste affermazioni noi dobbiamo assolutamente confrontarci con queste io non sto adesso non sto assolutamente formulando mie opinioni personali o mie idee no no basta prendere il catechismo della chiesa cattolica adesso lo vedremo qualcosa o i documenti autentici del magisterio autentico della chiesa prima o soprattutto il consiglio di Trento che vedremo anche questo adesso ecco perché i santi penso che lo sappiamo avevano come slogan la morte ma non il peccato oppure oggi è la festa del del grande San Gennaro martire come fa un martire a morire martire se la morte fosse il sommo male ma nessuno morirebbe martire ma la morte non è il sommo male perché per un figlio di Dio la morte addirittura può essere oggetto se si tratta di morte gloriosa come nel caso del martirio oggetto addirittura di desiderio noi non ci rendiamo conto perché oggi siamo ahimè una masnada di miscredenti e Dio voglia che non mi siete ma dovete pure io dentro questa questa masnada per una fede non perfetta o o languida Dio me ne scampia i libri speriamo di no ma quando la fede c'era morire martire era oggetto di desiderio di preghiera addirittura anche qui dobbiamo sempre chiederci quali disonanze interiori mi produce la rievocazione di queste affermazioni di queste constatazioni anche questo basta andare a leggere gli atti dei martiri sono pubblicati sono quindi non c'è anche il martiro orologio romano per chi volesse andarsi a fare un'istruzione quindi non è che tutto tranquillamente tracciabile documentabile e io che penso di anzi a questo ora con Ciro di Trento sapete che il nesso morte il nesso peccato morte ma anche tutta quanta la teologia del peccato originale era stata una delle questioni ampiamente stravolte dalla teologia prima luterana e poi evidentemente attraverso vari rami forme e modalità più o meno distinte però nei concetti essenziali c'è poco da distinguere il concetto di Trento quindi combattendo l'eresia luterana afferma chi non ammette che il primo uomo Adamo avendo trasgredito nel paradiso il comando di Dio ha perso subito la santità e la giustizia nelle quali era stato creato ed è in corso per questo peccato di prevaricazione nell'ira e nell'indignazione di Dio e quindi nella morte che Dio gli aveva prima minacciato e con la morte nella schiavitù di colui che in seguito ebbe il potere della morte cioè il demonio e che Adamo per quel peccato di prevaricazione fu peggiorato nell'anima e nel corpo sia anatema la formulazione del concilio tridentino come di molti concili classici diciamo così specialmente quelli dogmatici si esprimevano sempre in termini molto molto apodittici e perentori questa è la verità cattolica cattolica non è che significa che è una delle tante verità la verità cattolica è la verità perché noi seguiamo quello che ha detto io sono la verità e nella chiesa c'è la la verità non una verità questi rischi causati da una malattuazione o malcomprensione del dialogo interreligioso la verità cattolica non sarà mai una verità ma è sempre solo la verità diverso il discorso che tu non puoi imporla a tutti abbastonate questo è un altro discorso questo qui ma non poterla imporre abbastonate non significa abdicare dal dire questa è la verità per farla proprio ci sono un atto di fede ci sono una conversione però la verità bisogna dirla amici miei ora per chi c'è qualche allergia al colcino di Trento perché pare qui che tra le forme moderne di allergia pregate per me perché a me è cominciata adesso a risorgere la mia quindi speriamo che non facciamo qualche cinematografo in diretta o durante la catechesi con starnuti a retrocarica con propulsione interna speriamo di no però siccome va di moda scaricare il concilio di Trento e per carità la peste bubonica prendiamo una citazione del concilio Vaticano II e una del catechismo della chiesa cattolica su cui dovrebbero essere d'accordo tutti Gaudium et spes 18 dice che la fede cristiana insegna che la morte corporale dalla quale l'uomo sarebbe stato esentato se non avesse peccato sarà vinta un giorno dalla quale l'uomo sarebbe stato esentato se non avesse peccato l'immortalità secondo la sana dottrina cattolica infatti era uno di quei doni liberamente elargito dall'altissimo si chiamano i doni preternaturali cioè quelli che superano le condizioni naturali della creatura e che avrebbe conservato l'uomo solo se non avesse peccato è evidente che avendo peccato perso questo dono preternaturale in questa vita ma questo dono potrà essere riacquisito non solo un giorno ma in forma molto molto più perfetta perché appunto la risurrezione della carne Cristo risuscitato dai morti non muore più quindi non rende come dire immortali per grazia cioè quando speriamo di partecipare alla risurrezione della gloria vedremo a suo tempo che la risurrezione non è al senso unico la risurrezione è per la gloria o per la condanna per la gloria la morte sarà ingoiata per sempre dice la sacra scrittura vuol dire che non c'è più potere su di te non morirai mai più e noi dobbiamo confrontarci con queste cose amici miei perché se uno non ci crede il discorso è bello che è finito lo possiamo finire qui il catechismo della chiesa cattolica 18 1 0 0 8 non 1 8 nel senso di abbreazione di 1800 numero 1008 afferma interprete autentico delle affermazioni della sacra scrittura della tradizione il magistrato della chiesa insegna che la morte è entrata nel mondo a causa del peccato dell'uomo sebbene l'uomo possedeva una natura mortale Dio lo destinava a non morire la morte fu dunque contraria dei segni di Dio creatore ed entrò nel mondo come conseguenza del peccato questo lo stazio trova scritto nel catechismo della chiesa cattolica nel 1000 numero 1008 non neanche nel catechismo sappiodesimo catechismo della chiesa cattolica e se su questo non sono tutti d'accordo io non ho proprio a che fargli nel senso che non noi non possiamo stravolgere la chiesa o il suo patrimonio non si può chi lo fa si mette fuori anche se rimane ancora dentro e poi verrà un giorno insomma in cui si andrà a rispondere di quello che si ha fatto come vedremo anche durante questo ciclo di catechesi addomine Dio il quale questo non dimentichiamolo mai non fa preferenze di persone diciamo ma no ma io sono un prete quindi ah no ma io sono un vescovo quindi ah no ma io sono un cardinale quindi pensate a certi personaggi che Dio li abbia in gloria speriamo che si possa augurare questo senza offendere il Signore alcuni papi insomma hanno veramente non lasciato a desiderare di più di peggio quelli sono stati giudicati da Dio anzi più si va in alto dice il libro della sapienza più il giudizio sarà rigoroso quindi lo stare in alto non è un'esenzione capite come ah io siccome comando io a me Dio non mi giudica e sottoscrive tutto quello che faccio no 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 mi dispiace ma la verità bisogna sempre dirla quindi fissiamo bene che la morte è conseguenza del peccato e i tre tipi di morte quindi la morte corporale la morte dell'anima e la morte eterna ora la morte non ha avuto l'ultima parola perché a un certo punto è successo che è venuto sulla terra il nostro signore di Gesù Cristo e la sua opera culmina nella vittoria sulla morte e sul peccato dirà San Paolo ha vinto sulla morte e sul peccato leggiamo anche qui anzitutto qualche testo biblico veramente di riferimento fondamentale qualche cult su questo tema e cioè anzitutto la lettera degli ebrei due versetti 14 e 15 allora è un passo molto molto famoso e molto importante leggo con la traduzione della Scea ovviamente del 2008 poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne e anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere cioè in diavolo e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita questo è il primo grande brano che parla di questo argomento la morte non serve per loro non serve per loro morire lucifero non è mai morto non è mai morto e quindi può essere un grande problema la morte corporale credo che tutti quanti siamo d'accordo sempre se rimaniamo nell'ambito della dottrina cattolica che la dannazione esiste che la morte eterna esiste e questa è la seconda morte lo stagno di fuoco scrive San Giovanni nel libro dell'Avocatisse e coloro che non erano scritti nel libro della vita andarono incontro alla seconda morte e questo è lo stagno di fuoco stagno di fuoco per il diavolo non c'è la morte corporale ma lo stagno di fuoco da ora che c'è stato dentro allo stagno di fuoco quindi questo teniamolo ben presente la morte è per noi mortali cioè che siamo fatti di carne e di sangue si leggero in lettera agli ebrei essendo fatti di carne e di sangue era possibile incorrere attraverso la morte e quindi attenzione cosa ha fatto nostro Signore Gesù Cristo una di queste cose dobbiamo capirle figlioni miei cari dobbiamo capire nel senso che dobbiamo focalizzarle perché la nostra fede sia una fede capace di rendere ragione ma sia una fede anche solida perché Gesù Cristo è morto in croce non siete mai chiesti Gesù Cristo è morto in croce per salvarci dal peccato ma e perché uno potrebbe dire immaginate che ci fosse una persona che non è credente viene da te e dice tipo voglio diventare cristiano voglio battezzare voglio diventare cattolico fammi capire ma perché Gesù Cristo è morto in croce allora perché ha fatto due cose due ha preso su di sé come diciamo ogni giorno durante la Santa Messa ecco l'Agnaro di Dio ecco colui che toglie il peccato del mondo ma l'espressione togliere è la l'ha preso su di sé l'ha distrutto nella sua persona perché così ha tolto allora che cosa ha fatto su tutti i peccati del genere umano dal primo all'ultimo ovviamente a cominciare dal peccato originale che pesa più di tutti si sono scaricati sul nostro Signore tutti nella loro portata pestifera mortale e Gesù come ha fatto a distruggerli li ha presi le conseguenze dei nostri peccati le ha pagate con infinita carità dice Santo Ammaso da Quino oh ma poi però c'era la conseguenza estrema che è quella che è proprio ineluttabile la morte il Signore della morte il responsabile ultimo della morte il responsabile prossimo siamo noi ma il responsabile remoto e quindi il responsabile ultimo della morte è il diavolo chi vuole che sia quindi l'affermazione ama se Dio esistesse non esisterebbe la morte che non lo so quando ero giovane qualche qualche farfaglione qualche chiacchierone lo andavo abblaterando è una bestemmia è una bestemmia grosso quanto una casa ma è anche un fake un falso grosso quanto una casa perché il Signore della morte il Signore della morte è il diavolo non certamente domine Dio vi ricordate prima della passione Gesù che cosa dice adesso dobbiamo uscire viene il principe di questo mondo questo è il Vangelo di San Giovanni e aggiunge egli non ha nessun potere su di me il Signore della morte su Gesù Cristo non c'è nessun potere e perché perché punto interrogativo perché perché era Dio ma è troppo facile così no è troppo facile Gesù Cristo era vero Dio e vero uomo allora certamente in quanto vero Dio non c'è nessuna possibilità che il diavolo lo possa sottomettere ma in quanto uomo c'erano due carte da giocarsi il peccato originale che figuriamo se il nostro Signore era contratto ma c'era la possibilità del peccato attuale che il nostro Signore non ha fatto e quindi egli non ha nessun potere su di me zero ma proviamo un attimo a fare un'applicazione un po' importante di questi principi questo è un ciclo di catechesi cioè io vorrei anche che voi capiste come le grandi verità di fede sono tutte quante interconnesse il diavolo non ha potere su Gesù perché? è sulla Madonna perché? perché senza peccato ma che significa? significa che il peccato dà potere al diavolo su di te e qual è la conseguenza di questo? ma voi immaginate se una persona se le persone oggi ancora credessero che il marchio maledetto del peccato originale rende il concepito appena concepito schiavo di Satana non è un'espressione mamma mia che scherrazza di cosa che dici? è schiavo di Satana ma ma che è? ma che esagerazioni liberare colui che è soggetto a schiavitù per tutta la vita si legge in questo passaggio detto dagli ebrei liberarlo allora col battesimo noi non siamo liberati dalla morte corporale perché quella come conseguenza il Signore ha stabilito che dobbiamo pagarla tutti a prescindere dal fatto che ci battezziamo però che cosa cambia dal battesimo in poi? cambia che dal giorno del battesimo in poi il diavolo che ha avuto fino a quel momento potere perché quella povera creatura c'era il peccato originale abbiamo letto nei giorni scorsi facciamo una parentesi durante una veglia di preghiera una bellissima testimonianza è il testo del padre Bammonte la Vergine Maria il diavolo negli esorcismi dopo a un certo punto il diavolo vomita quindi canta ma tu come mai che non hai avuto nessun potere non c'ho mai avuto nessun potere su quella lì ma nessuno dice lui perché perché non c'avevo nessun appiglio dove dove lo esercito il potere quella era una fortezza inespugnabile dove lo esercito il peccato originale non c'era non ha commesso nessun peccato non c'è neanche la macchina che cosa gli faccio ma voi capite quanto è importante quando uno capisce queste cose perché se non c'è nessun potere su Gesù Cristo perché non c'è peccato come faccio io a fare in modo che il diavolo abbia meno potere possibile su di me zero non è possibile ma meno potere possibile meno forza nelle tentazioni meno possibilità di procurarmi male di origine malefica come faccio che devo chiamare qualcuno che si inventa chi non sa quale formula strana per proteggermi con qualche magicissima benedizione dai poteri del diavolo attenzione non sto sminuendo il potere delle benedizioni sacerdotale lo dico sempre ma dico queste cose qui anzi fareste molto bene se trovate qualcuno a farvi benedire più possibile supposta evidentemente un vostro impegno nella vita di grazia perché le benedizioni sono degli strumenti formidabili non sono sacramenti ma sono sacramentali il potere che il diavolo ha su di te è tanto quanto tu gliene dai e guarda che se dai potere a quello lì sono guai grossi più si pecca e più lui aumenta il potere e attenzione più aumenta il suo potere più è difficile svincolarsi dalle sue catene perché ricordiamo che bene un'altra cosa questo lo spiega benissimo San Tommaso d'Aquino tu fai un peccato mortale facendo un peccato mortale tu ti sei suicidato perché è un suicidio nella vita della grazia e amici conoscete qualcuno che si è suicidato e poi è tornato in vita per virtù propria conoscete qualcuno in questi giorni chi fa messa tutti i giorni avrà ricorderà che è stato letto il vangelo della resurrezione del figlio della vedova di Nain ma quello non è risolto per virtù propria quello l'ha risolto qualcun altro quindi se un suicida è morto e non torna in vita è un suicida dell'anima secondo voi cioè io posso dire beh faccio una bestemmia non mi dico una bestemmia poi però domani mi vado a confessare rientro in grazia cioè è su problema il problema c'è oppure un peccato un pochino più attraente vado a far commettere qualche impurità perché insomma mi sento un po' un po' su di giri tanto poi mi confesso guardate che il diavolo è veramente tremendo tu non puoi fare questo discorso ma non soltanto perché è un discorso che il signore non accetta mai perché il signore non è morto in croce versando tutto quanto il suo sangue lasciando sul sacramento che per questo perché io irrido o abuso della sua bontà dicendo beh tanto c'è la confessione pecchiamo e dopo andiamo a confessare non funziona così non funziona così amici Gesù è morto perché chi cade perché è vinto dal diavolo perché è debole in qualche peccato mortale possa uscirne fuori ma non ne esci con le gambe tue non ne esci con le gambe tue questo tempo ci dobbiamo mettere in testa cioè andarti sinceramente a confessare dopo che hai commesso un peccato sappi e ricorda che è una grazia dell'altissimo qualcuno ha pregato e ha fatto sacrifici per te perché per quanto sta in te tu eri morto e Dio non c'ha nessun dovere di ridarti quella vita che colpevolmente hai perso perché eri stato avvertito non fare questo non fare quest'altro e se dici ma io non conoscevo i comandamenti dico no 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 i comandamenti forse non te li ricordi tutti non li hai approfonditi già questa è colpa ma noi abbiamo un comandamento vivente e che parla H24 dentro il nostro cuore e che dobbiamo imparare ad ascoltarlo di più perché quasi nessuno lo fa che è la coscienza che va esaminata per vedere almeno per quanto ne sono consapevole siccome quanti peccati ho fatto anche oggi o prima che mi vada a confessare no quindi allora per chiudere questa questa parte no se io credessi veramente che il peccato è la causa di tutti ma è la causa della morte della morte dell'anima e la causa del potere che il diavolo prende sul di... sapete cosa significa? quando il diavolo prende potere ma il diavolo non è mica come Dio ah il diavolo è un tirano il diavolo è un dittatore il diavolo è che è cattivo se lui prende potere sulla tua anima lo sai che cosa serve questo? a farti del male anche in questo mondo e tu dici ma Dio sta a guardare no Dio non abbandona per grazia e per misericordia quella creatura le darà presumibilmente a meno che non ci sia veramente una situazione borderline opportunità ulteriori di conversione di grazia ma questo non deve diventare uno strumento con cui il peccato dice vabbè tanto e quindi posso confessare molte volte no amici miei il sangue di Cristo non è acolo non possiamo mettercelo sotto i piedi vuoi stare alla larga dalle conseguenze del peccato dalle disgrazie dalla morte dalla disoccupazione da che ti viene qualche brutta malattia di cui sei tanto spaventato e chi lo sa che succede quando mi viene no attenzione il potere del diavolo su di noi dipende da noi allora andiamo avanti che c'è un altro brano significativo ed è il seguente primo corinzi 15 3 prima lettera corinzi 15 versetto 3 lo leggiamo insieme io ho trasmesso quindi anzitutto quello che anch'io ho ricevuto cioè che Cristo morì per i nostri peccati spero che dopo questa sera capiamo un po' meglio questa cosa il peccato è la causa della morte io prendo la morte mi faccio distruggere dalla morte perché distruggendo la morte distruggerò anche la causa della morte disattivo Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture ecco la vittoria sulla morte apparve in seguito e le 12 vedete perché è così importante la risurrezione di Cristo che certamente è la verità principale più importante della nostra fede e capite perché San Paolo scrive anche questo che va messo all'ottigione l'abbiamo sentito qualche giorno fa guardate che se Cristo non è risorto la nostra fede è vana e che cosa aggiunge voi siete ancora nei vostri peccati perché se Cristo non è risorto la morte con il peccato la morte che è la conseguenza con il peccato che è la causa non sono stati vinti e quindi siamo ancora tutti soggetti in schiavitù tutti quanti ma così non è e poi sempre di San Paolo abbiamo la lettera ai Romani 5 17 i versetti 17 e 21 prendiamo subito infatti se per la caduta di un solo uomo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo non solo 7 21 come regno il peccato nella morte attenzione così regni anche la grazia mediante la giustizia per la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo nostro Salvatore allora diciamolo subito in due parole chi è il cristiano il cristiano è quello che come tutti passa per la morte corporale perché quello è un prezzo da pagare post peccato originale ma il cristiano non sta nella morte dell'anima come ha regnato il peccato così ora regna la grazia io i peccati non li faccio attenzione ai peccati ad occhi aperti i peccati grossi perché noi al tempo stesso dobbiamo ricordare con l'offertorio della messa antica che innumerevoli sono i peccati le offese e le negligenze commettiamo dalla mattina alla sera e che queste sì che dipendono dal retaggio della condizione di natura decaduta che ci portiamo dal peccato originale ma un peccato grave non si fa i peccati impuri non si fanno e si possono non fare non è vero che non si possono non fare le bestemmie non si dicono le volgarità non si dicono per nessun motivo al mondo la vita non va rispettata dall'inizio al termine del concepimento sto facendo alcuni esempi di peccati molto cari l'idolatria l'idolatria va fuggita come dalla peste bubonica sia l'idolatria in senso stretto quindi adorare gli idoli sia la dell'idolatria spirituale adorare gli idoli del mondo un cristiano non può stare non può essere un avaro in senso forte cioè uno che sta così tanto attaccato ai soldi che non pensa ad altro che non parla di altro che sempre guarda pure i 5 centesimi e non dà manco una lira di di elemosino di carità ma questo non è cristiano regni anche la grazia con la giustizia con la vita eterna allora noi la morte corporale sì ma la morte nell'anima no e la morte eterna tanto meno non dipende questo soltanto niente di tutto questo dipende soltanto da noi ma noi dobbiamo metterci la buona volontà però eh sant'Ignazio l'ho detto infinite volte diceva sempre lo Iola non sant'Ignazio di Antiochia fate come se tutto dipendesse da voi sapendo che nulla dipende da voi questo perché perché come ha regnato il peccato nella morte noi siamo stati battezzati così regni anche la grazia mi dante la giustizia per la vita eterna per mezzo di Gesù nostro Signore alla luce di queste cose io mi chiedo l'ho detto in tantissime catechesi però ripetita you want ma con che razza di coraggio i genitori di oggi perché sono genitori di oggi che la fede non ce l'hanno più fanno stare un ragazzino mesi senza il battesimo anni a volte io non una volta solo ho battezzato bambini che già camminavano da sole e già parlavano proprio segno dei nostri sciagurati tempi ma chi è se credesse veramente che dove c'è il peccato c'è la morte e se c'è il peccato originale lì c'è la morte ma chi è che non si sbriga ad andare a farlo il più presto possibile così Dio non voglia che uno commetta un peccato mortale ma che aspetta e non te confessa subito io ho sempre detto ai fedeli non fa quasi nessuno che per le confessioni disponibili di giorno e di notte cioè facciamo un esempio sto facendo la la diretta supponiamo che una persona si attaccasse al citofono che è attivo magari se fa soltanto una citofonata non gli rispondo perché ma se una persona si attaccasse adesso al citofono vuol dire che c'è un'urgenza c'è qualcosa di grosso sta morendo qualcuno o o vuole confessarsi allora vi direi subito amici quanto stiamo stiamo a 42 minuti Lexio Brevis catechesi finita mi chiamano a confessare io vado perché se quello poverino sta in stato che ha perso la grazia prima di recuperare meglio è ma no chiamiamo domani mattina al parroco adesso andiamo a dormire no non ho chiamato domani mattina vieni subito vieni certo se mi interrompi una catechesi mi chiamo alle due notte che hai detto le bugie di scusa o che hai fatto qualche altro disuperbio o che hai avuto qualche scatto di impazienza magari questo si si può aspettare domani mattina quindi non notiamo la chiarezza qui siamo ancora alla rivelazione ho soltanto fatto un accenno a un canone del concilio di Trento e al documento del concilio Vaticano II e al catechismo della chiesa cattolica quindi siamo ancora abbastanza in alto mare e oltre a questo brano 17-21 abbiamo visto gli altri due primo corintesi 15-3 ed ebrei 2-14-15 ora queste cose vengono come dire commentate chi osate se si passa questa espressione un po' più aulica dal catechismo della chiesa cattolica che nel numero 1009 dice anche Gesù il figlio di Dio ha subito la morte proprio della condizione umana ma malgrado la sua angoscia di volontà di esser egli l'assunsi in un atto di totale e libera sottomissione alla volontà del padre dell'attenzione l'obbedienza di Gesù ha trasformato la maledizione della morte in benedizione allora ma tutto quanto sto terrore della morte che gira adesso e che ha girato ha girato ha girato ma io domando e dico ma da dove viene tutti i terrorizzati della morte corporale ma c'è qualcuno che è terrorizzato della morte dell'anima che c'è molto di più da essere terrorizzato della morte dell'anima la risposta è no perché se ci sono il 70% delle coppie siamo arrivati credo a numeri di questo genere non c'ho sondaggi non c'ho ma vedo quello che vedo non c'è ormai io guardate ogni persona anche io in cui sto in una chiesa d'arte quindi vengono a chiedere i matrimoni di sposarsi vengono sempre in due ma vengono sempre col ragazzino che cosa vuol dire vuol dire che stanno convivendo questo peccato mortale non è un peccato di gola e non stanno tranquilli ma no zero però perdonatemi quando c'erano ancora le restrizioni 400.000 mascherine fino a sopra i capelli non voglio fare polemiche di questo genere ma questo che significa significa che della morte corporale terrore della morte dell'anima zero se ti trovi in questa situazione ora io capisco anche ho detto tante volte che adesso stiamo in un contesto storico in cui queste cose sono come dire assolutamente all'ordine del giorno sono diffusissime per cui io non mi sostituisco certamente al giudizio dell'altissimo che valuterà personalmente quanto questa coppia è responsabile fino a che punto fino a che grado insomma no che tasso c'è di consapevolezza quanto avrebbe dovuto essere formata e informata questo sono tutte e tante cose che rilasciano al nostro signore non ci interessano noi non si tratta di giudicare la persona o le persone ma si tratta però di cogliere la luce di queste cose in che razza di ambiente stiamo vivendo e chi è che ci avrebbe paura della morte eterna lo dico io nessuno o quasi a un parco arrivano tante cose no specialmente in un piccolo centro e io che c'ho da confessare che mi devo confessare ma che faccio ma io sono tanto bravo io quando muori vado vado a un paradiso prima di tutti prima di quelli che vanno a messa la domenica figurate sapete quanta gente che pensa a questo tanta ve lo dico tantissima molto più di quanto noi pensiamo quindi paura della morte eterna qualcuno addirittura pensa che dice che non esiste ma voi capite che criminali che sono chi nega queste verità di fede e illude i fedeli che queste cose siano favole da medioevo non c'è altro termine per definirlo che criminale perché i criminali sono banditi per esempio i criminali sono quelli che ammazzano la gente scusate ma è più facile è più grave ammazzare una persona o che è un grandissimo male no sarà sicuramente gravissimo non mettere in paragone ma scusate ma ammazzare l'anime o come dire se non dico che che l'ammazzi potresti risorgerla perché le anime le morte alla grazia tu dici Gesù è risorto è una risurrezione continua perché se te fanno buona confessione come Dio comanda tu risorgi subito è la prima risurrezione che è preludio e figura della seconda risurrezione e a un cristiano come si relaziona nei confronti della della morte tu io quando pensi alla morte a che pensi ripeto quello che dico in continuazione mettili davanti a Dio sapete le grandi meditazioni se prendete anche la filotea di San Francesco di San nei primi capitoli dove sono gli esercizi preparatori state proprio tranquilli che una delle meditazioni obbligata a un cult è la meditazione sulla morte vedi come sono fatte quelle meditazioni se tu ti metti immaginate il giorno della tua morte come sarai arrivato ci avrai debiti da pagare ci avrai situazioni come so di mancate riconciliazioni ancora non non risolte scandali non riparati peccati non confessati queste meditazioni fatte da santi San Francesco di sale è passata la storia come santo per la dolcezza quindi non certamente come il terrorista talebano è andata a leggere la meditazione sulla morte di San Francesco di San se la fai io l'ho fatta tanti altissimi anni fa perché lessi la firotea e feci quella consagrazione alla vita devota stavo in seminario c'è questa cosa qua va a fare la meditazione sulla morte io me la sono fatta sotto quando la feci all'epico perdonatemi come dire non è un francesismo perché non è un'espressione volgare però è un'espressione diciamo un po' feriale per esternare insomma il fatto che non è che ti fai quella meditazione e ne esci come ho cominciato se la fai seriamente ma manco per niente e che venga un pochino di salutare paura della morte corporale in quest'unico senso solo in questo senso si può ammettere una paura della morte corporale cioè io non so pronto se me prende oggi me ne vado all'inferno quindi signore posticipami un po' la morte corporale in modo tale che me la posso rimettere ma solo questo però questo sì questo questo va bene il resto no la morte per un figlio di Dio ma è la è la è la chiave di apertura di quella porta che è una vita che ho desiderato che si aprisse la porta della visione a faccia a faccia la porta della visione beatifica certamente dovrò farmi un bel po' di purgatorio un pochino a meno che non mi sono dato molto da fare sul pianeta Terra perché se uno si dà molto da fare il purgatorio si riduce di moltissimo dice lo evito del tutto questo è molto difficile ma non mettiamo limiti alla divina provvidenza certo non è che lo eviti del tutto il purgatorio semplicemente se che ne so mangi un pochino più sapo in qualche giorno che è un sacrificio certamente che il Signore gradisce che va contro le due peccati però non è un gesto ascetico così forte così eclatante rimaniamo con queste considerazioni la morte corporale la morte dell'anima e la morte eterna si intitolerà così questa puntata no? Qual è qual è quella che ci fa più paura? Provate a farvi questa domanda quale ti fa più paura? La morte e la grazia no? La morte dell'anima la morte del corpo o la morte eterna? Qual è che ti fa più paura di queste tre? Davanti a Dio non davanti a me eh poi se qualcuno volesse fare la meditazione sulla morte c'è la filotea se mi posso permettere intanto questa è una cosa del tutto lo faccia che te fa bene ti fa bene ogni tanto l'abbiamo visto credo nelle volte scorse perdonatemi che la mia testolina purtroppo è nelle cose che faccio è limitata grazie a Dio mi ricordo ancora le cose importanti su cui parlare per ora poi vedremo quindi l'importanza di fare questa di collocarsi di mettersi tu che dici come stai dinanzi a questo problema la gente la morte la esorcizza oggi non ci pensano abbiamo già visto ma questo è un disastro assoluto bene la prossima volta introduriamo soltanto perché il tempo è quasi scaduto se assolutamente non è caso di aprire un altro argomento però c'è un altro argomento molto molto importante lo introduco così cioè la rivelazione del nostro del nuovo testamento scusate e la morte di Gesù che abbiamo già accennato che dovremo approfondire quindi queste due dinamiche ci svelano due cose sulla morte ulteriore uno che essa è espiazione del peccato ed è introduzione alla vita eterna lo vediamo la prossima volta io posso già accennare qualcosa cioè se la morte è stata inflitta da nostro Signore come castigo estremo del peccato originale è chiaro che la morte è un atto di espiazione nella meditazione sulla morte dici accetto Signore che morirò quando tu vorrai come tu vorrai allora che tu vorrai ma ci saranno le persone care ad assistermi quello che Dio vuole ma mi daranno una degnosepoltura ma quello che Dio vuole certo consiglio a chi non è molto amante di queste nuove pratiche perché qui a quanto pare vanno molto di modo di lasciare scritto da qualche parte magari in un testamentino olografo che non vuole per esempio essere cremato se no oggi con estrema facilità si va al forno quindi espiazione dal peccato è introduzione alla vita eterna se ti dovessero dire c'è tre giorni di vita tu come reagisci tu come reagisci te ne hai giorni di vita non sta purtroppo tempo di andare a riparare troppi peccati però che fai che fai dobbiamo chiedercele queste cose ripeto questo ciclo di catechesi sarà importante perché ci pone dinanzi a delle realtà che è semplicemente folle non considerare ed è assolutamente invece fruttuoso farlo come stiamo cercando di cominciare a fare bene amici vi saluto vi ringrazio per chi ha seguito la diretta anche stasera molto numerosi vi do come vi consiglio la mia piccola benedizione Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre e dovunque tutti vi protegga Amen